Emergenza viabilità in provincia di Sernia dopo la mobilitazione di amministrazioni ed operatori economici sono stati finalmente stanziati i primi finanziamenti per la Fresilia, l'Istonia e la strada provinciale della Vandra. Una serie di strade chiuso e impraticabili da anni con gravi danni per la circolazione e la stessa economia della provincia di Sernia come nel caso della Fresilia danneggiata in più punti tanto da rendere quasi impossibile il collegamento con la bifernina per camion e tir con gravi danni per le attività produttive di Frosolone. Finalmente, quasi sicuramente perché sono in vista le elezioni, la politica si è passata una mano sulla coscienza facendo arrivare a disernia i primi fondi necessari a rendere di nuovo percorribile la Fresilia come conferma il presidente della provincia, Coia. Ci sono 5 milioni di investimento complessivo a valere sul par molise che la maggior parte riguardano la Fresilia, un tratto della Colli Fornelli dal Bivio di Fornelli a Colli a Volturno e i tempi. Noi avevamo dato una disponibilità e un'assicurazione che a settembre sarebbero stati consegnati i lavori. Un ritardo, se c'è stato, è dovuto a una procedura che c'è stata bloccata dall'ANAC relativa a un appalto di progettazione. L'ANAC riteneva che si potesse fare un lotto unico, anche se erano tre diversi lavori di progettazione relativi a sondaggi geologici e a spese di progettazione, alla fine ci hanno bocciato lo spezzatino e hanno costretto a rifare una gara unica per 400 mila euro e questa stiamo per farla in questi giorni. Quindi primo stop da parte dell'ANAC, secondo stop da parte della regione che aveva promesso un finanziamento del 10%, mancava la relativa copertura del 90%. Non potevamo fare una gara parziale, dovevamo fare una gara al 100% di finanziamento trattandosi di 5 milioni di euro. Abbiamo avuto questa garanzia poi dalla regione Molise, abbiamo lavorato celermente per poter consegnare i lavori, ieri sono stati consegnati la maggior parte di lavori, uno solo non è stato consegnato perché da parte di una ditta c'è stato già un avviso che avrebbero impugnato il bando perché secondo loro la procedura non era stata seguita normalmente. Noi abbiamo fatto un soccorso istruttorio, abbiamo rivalutato che la procedura era irregolare per cui abbiamo invitato la ditta a non fare ricorso. Non sappiamo ad oggi però sui tempi tecnici per poter eventualmente fare ricorso e andremo alla consegna anche di quest'ultima gara da parte. È uno dei lotti della Fresilien. Grazie.